Sarà di colore azzurro la scheda del referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Ecco il facsimile pubblicato dal Viminale. Nel quesito verrà chiesto agli elettori di confermare o respingere con un sì o un no la riforma costituzionale approvata dal Parlamento e pubblicata in gazzetta ufficiale lo scorso 12 ottobre che prevede la riduzione di 345 seggi tra Camera e Senato. I deputati passerebbero così da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. Alle urne sono chiamati 51 milioni e mezzo di cittadini. Si vota domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 in concomitanza con le elezioni amministrative e regionali. Non c'è quorum, il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti. Per i sostenitori del no con la riforma non si riduce la spesa pubblica ma solo rappresentanza e democrazia a danno dei territori. Per chi sostiene il sì la riforma produrrà risparmi nei costi della politica e un sistema parlamentare più snello ed efficiente.